Nel comune di Statte sconvolto dal tornado ora è emergenza amianto. Il sindaco Angelo Miccoli ha emesso un'ordinanza in cui si vieta la viabilità e l'accesso nell'area di Monte Termiti, la zona residenziale del paese, per fronteggiare l'emergenza. Il tornado che si è abbattuto sulla comunità ha infatti sollevato tetti e coperture di diverse abitazioni, ville soprattutto, che adesso sono inagibili. Molto compita è appunto la zona di Monte Termiti, che è la parte alta di Statte. C'è dispersione di amianto e soprattutto, oggi che la giornata è ventilata, è concreto il rischio che le fibre di amianto possano essere inalate, dice il sindaco, di cui il divieto di accesso con le auto è a piedi a Monte Termiti. Chi dovesse necessariamente entrare nell'area, viene riferito, deve munirsi di mascherine per proteggersi dall'amianto e noi stessi le stiamo fornendo, ha spiegato il sindaco. Le abbiamo già date a tutti gli operatori e i soccorritori che sono sul posto per cercare di ripristinare una minima condizione di normalità. Ancora in corso di quantificazione i danni che sono enormi, il paese è stato ferito e colpito. Il sindaco ha anche invitato i cittadini a limitare, nelle aree non precluse, l'uso delle proprie auto per non intralciare l'azione dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia.